Manca Carlo. Carlo è con me tutti i giorni. Il dolore non ha bisogno di una foto per farsi sentire. Sai quale è la mia paura più grande? Quale? Dimenticarmi di lui, di quello che è successo, e non provare più dolore. Quello non è possibile, papà. E Raul? Credi che si fermerà? Non lo so. L'importante è che ci siamo ripresi la Dipsy, è l'unica cosa che conta. Non per me. Invece dovrebbe. Lara, vorrei che tu entrassi in azienda. Sei l'unica persona della quale mi fido ciecamente. Papà, a me non interessa la Dipsy. Ma poi Serena, Nina, non accetterebbero mai... Serena e Nina sanno perfettamente quanto sei importante per me. E voglio che il nome della Dipsy non sia più legato al mio. Sono persone come te che la gente deve ricordare. Prometti per meno che ci penserai. Va bene. Prova a immaginare. Lara de Greci is presidente della Dipsy.